Eccoci qua, fantastico, siamo qui a festeggiare il compleanno di Claudio D'Acasto, D'Acasto Claudio, Claudio D'Acasto, 33 anni, guardatelo, guardatelo lì per lui, il numero uno, tutti intorno, tutti intorno, acclamato dagli amici, si stanno allontanando tutti, Claudio, però è arrivato il pezzo forte, è arrivato il regalo a sorpresa da dietro per Claudio, non se lo sarebbe mai aspettato, è arrivato per un regalo che avrebbe desiderato tantissimo, a 33 anni è l'età giusta per ricevere un regalo così pazzesco, bellissimo, auguri Claudio, auguri Claudio, fantastico, 33 anni D'Acasto, bellissimo, bellissimo Claudio, tutti intorno, tutti intorno, potete tagliarla, potete mangiarla, potete fare quello che volete della torta, sei mobilizzato, questo ragazzo sei mobilizzato, sta cercando l'aiuto del pubblico, facciamo l'intervista festeggiato, facciamo l'intervista festeggiato, facciamo l'intervista festeggiato e facciamo questa intervista, mi abbagli, mi abbagli, mi accechi, mi accechi, eccoci qua, eccolo qua, è lui Claudio, 33 anni D'Acasto, di Esprimi la tua gioia, grazie di tutto, ecco, ecco, mi piace, ecco qua, ovvio, ragazzi fate un applauso a Claudio, Allora, però mi hanno detto Claudio, che tu hai un soprannome, ti chiami? Valvola E perché Valvola, facci vedere a tutti perché lo chiamate Valvola, vai Claudio Per la tua risata, è vero? Gravolina, allora, ma qual è la tua fidanzata? Jenny Ah, è la Jenny, ma perché ti sta così lontana la Jenny in questo momento? Eh, si vede che ho paura che ho mangi il coltello Eh, perché hai tu il coltello dalla parte del manico, non sai, ma una volta nella sera Almeno una volta nella vita, almeno il tuo compleanno, almeno il suo compleanno e per la prima volta nella vita Claudio ha il coltello dalla parte del manico, eh, finalmente, poi tutti gli altri giorni la Jenny che comanda, va bene, ce l'hai te Jenny, vero? Ok, Claudio, mandami un messaggio d'amore alla Jenny e a tutti i tuoi amici Grazie amore, è una bellissima serata e grande sorpresa, grazie E agli amici non li caghi? Gli amici sono il resto Guardagli lì, guarda che sono simpatici i tuoi amici, dai, salutameli tutti alla svetta Grazie anche a voi, Gigi, Andrea, Fredo, Gloria, Manuel, Debbie, Jenny soprattutto Barbara, Barbara soprattutto E le banana Sanchez Facciamo gli auguri a Claudio Grazie a voi 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 Grazie a voi